Sorelle e fratelli carissimi, ci troviamo in mezzo a un uliveto perché protagonista del Vangelo di oggi è l'ulivo sia nell'ingresso di Gesù a Gerusalemme quando la folla stendeva davanti a lui rami di ulivo sia poi nel momento della sua agonia nel Gezzemani proprio sotto gli ulivi. Lì Gesù provò spavento, angoscia, solitudine, sperimentò addirittura il silenzio di Dio perciò abbiamo scelto di collocare la buona novella di questa settimana della Domenica delle Palme all'interno di un uliveto. Questa volta non ascolterete il brano del Vangelo perché voi lo sapete nel giorno delle Palme si legge per intero la Passione e il brano sarebbe troppo lungo. Vi invito però ad andare a leggere il brano della Passione nel Vangelo di Marco dal capitolo 14 per intero fino alla prima parte del capitolo 15. In esso in questo brano di Marco vorrei presentarvi sette momenti alcuni dei quali sono proprio specifici di Marco non sono presenti negli altri Vangeli e vorrei cominciare proprio dal modo in cui Gesù accompagnato dalle folle che muovevano ramoscelli di ulivo e li mettevano davanti entra a Gerusalemme sul dorso di un asinello. L'asinello non il cavallo. Gesù sceglie questa cavalcatura e il suo nome in questo brano viene ripetuto per ben quattro volte e per 111 volte si parla dell'asino nella Sacra Scrittura e se ne parla sempre in modo positivo. Se ne parla come di un animale mite, di un animale umile, di un animale laborioso, di un animale che ubbidisce. E Gesù sceglie questa cavalcatura perché egli è il Messia umile, povero, ubbidiente, che fa le cose per amore e per dare vita alle persone. Infatti l'asino nell'antichità veniva utilizzato sia per girare la macina dei mulini sia per girare le ruote dei pozzi per cui era l'animale che donava pane ed acqua alle persone, fonte della vita per tutti. Questo è Gesù, è fonte della nostra vita. In più su questo asinello Gesù pone il suo mantello. Il mantello nell'antichità indicava la persona stessa che lo portava. Quindi Gesù, ponendo il suo mantello sull'asinello, stava dicendo che quell'asinello lo rappresentava. Quell'asinello diventa il suo trono. Egli non è un messia potente, non è un messia come il re Davide che con la forza e la violenza aveva conquistato il suo regno, ma è il servo sofferente, come ci dirà Isaia nella prima lettura, che realizza il suo regno proprio attraverso il dono d'amore totale della sua vita per dare vita a noi. Poi vorrei mettere in evidenza la paura di Gesù, solo nel Vangelo di Marco. Gesù, mentre prega nel Gezzemani, ci viene presentato in preda alla paura e all'angoscia. L'antichità conosceva personaggi come Socrate che andarono di fronte alla morte senza timore, senza paura, senza temere nulla, quasi come se fossero dei superuomini. Gesù no, Gesù è totalmente uomo e come ogni uomo di fronte alla morte ha provato paura ed angoscia e ha sperimentato il silenzio, ha sperimentato la solitudine. Gesù infatti nel Vangelo di Marco non dice nemmeno una parola, in nessuna circostanza, solo pochissime parole, tu lo dici, io lo sono, per ribadire di essere ri. Altrimenti non dice nulla a Giuda quando Giuda lo bacia per tradirlo, non dice nulla a Pietro quando Pietro lo rinnega, non dice nulla a nessuno, perché gli atteggiamenti di Giuda e di Pietro, gli atteggiamenti di tutte le altre persone, sono del tutto contrari allo spirito del Vangelo. Gesù sa che ormai non è più tempo di dire parole, è il tempo di offrire la propria vita per amore. E la solitudine è un'altra caratteristica del Vangelo di Marco, carissima. Nel Vangelo di Marco infatti Gesù è totalmente solo, non è accompagnato da nessuno. Negli altri Vangeli c'è sempre qualcuno che gli è vicino, in Marco no. C'è Giovanni nel Vangelo appunto di San Giovanni, c'è Pietro che lo segue da lontano, ci sono le pie donne, c'è la moglie di Pilato che aveva sognato di Gesù e che si fa vicino al marito per dire lascia perdere quest'uomo perché in sonno sono stata turbata per lui. Nel Vangelo di Marco, il più vicino agli eventi raccontati, Gesù è totalmente solo. Sente anzi addirittura la solitudine anche nei confronti di Dio. Dio è come se lo avesse abbandonato, non sente la parola di Dio e non sente la presenza di Dio, Gesù nel Vangelo, per cui arriva a gridare Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma lo sappiamo, questa era la citazione del Salmo 21 che poi termina con un'apertura alla speranza. Gesù non sente la voce di Dio ma sa che Dio c'è e dice a ciascuno di noi, anche se voi non doveste sentire la voce di Dio, sappiate che Lui c'è. E allora se ci dovesse capitare di emettere questo grido Dio mio, Dio mio, come Gesù, diciamolo e mettiamolo insieme con Gesù. Poi vorrei dirvi la quinta caratteristica specifica del Vangelo di Marco. La presenza di un giovane. Nell'orto degli ulivi, insieme alla folla che lo va a prendere con i soldati, c'è un giovane. È un carattere, è una caratteristica solo di Marco ed ha una prerogativa di non essenzialità. Se questo giovane non ci fosse stato, non cambiava nulla nell'economia del racconto. Perciò gli studiosi dicono che la sua presenza esprime una sola cosa. Quel giovane era Marco stesso che poi racconta l'episodio nel suo Vangelo. Questo giovane aveva una caratteristica, era nudo ed era avvolto in un lenzuolo, anzi, come dice il testo, in una sindone. Le guardie lo vogliono prendere ma egli, lasciando il lenzuolo, lasciando la sindone nelle loro mani, se ne scappa via. Questo giovane, sorelle e fratelli carissimi, diventa il segno di Gesù. Questo giovane che lascia la sindone e se ne va, è il simbolo di Gesù che nel sepolcro lascia la sindone e risorge a vita nuova. Nel mondo il Signore, a coloro che lo avevano condannato a morte, lascia semplicemente il segno della morte, la sindone, il telo nel quale, nudo, il cadavere veniva avvolto. Solo quello resta nel sepolcro. Gesù è vivo, è presente in mezzo a noi. C'è poi un'altra presenza caratteristica di Marco, quella del centurione romano, colui che guidava la squadra dei soldati che crocifisse Gesù. Un uomo abituato a ascoltare i condannati a morte sul luogo in cui venivano crocifissi. Diremmo noi oggi un uomo con il pelo sullo stomaco. Eppure questo centurione a un certo punto è come se si commuovesse davanti a Gesù ed emette la sua professione di fede. Questo uomo pagano è l'unico che alla fine del Vangelo di Marco riconosce in Gesù il figlio di Dio. Dice il testo, vedendolo morire così disse, davvero quest'uomo è figlio di Dio. È proprio nel vedere la morte di Gesù, il modo in cui Gesù dona la sua vita per amore, che fa fare a questo centurione la professione di fede più bella e più vera dell'intero Vangelo di Marco, di cui questo episodio rappresenta il culmine. Infatti lo ricorderete dai Vangeli precedenti che fin dalla prima pagina nel Vangelo di Marco c'è questa domanda. Chi è Gesù? Se lo domandano coloro che vedono i suoi miracoli e ascoltano le sue parole. Chi è quest'uomo così sapiente e capace di compiere questi segni? Se lo domandano i discepoli quando in preda alla tempesta, in mezzo al lago, dicono, una volta che Gesù aveva calmato la tempesta, chi è costumi al quale anche i venti e il mare obbediscono? Se lo domandano tutti e la risposta nel Vangelo di Marco, specialmente all'inizio, viene dai demoni. Io so chi tu sei, il Santo di Dio, ma Gesù impediva ai demoni di parlare così come impediva di parlare a coloro che avevano ricevuto da lui i miracoli, così come impediva a Pietro e agli altri discepoli di parlare una volta che era stata fatta la loro professione di fede. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio, perché c'era la possibilità di equivoco. Le altre persone, sentendolo definire figlio di Dio, avrebbero potuto pensare che lui fosse un Messia umano, un Messia che cercava il potere, un Messia che cercava la forza, la ricchezza. Gesù non era così. Solo il centurione non viene zittito, perché Gesù è già morto ed avendo rivelato il volto di Dio, il cuore di Dio sulla croce, non c'è più possibilità di equivoco. Gesù sulla croce ha mostrato in che modo lui è il Messia, in che modo lui è il figlio di Dio, come la sinello, mite che serve gli uomini per dare loro la vita, come l'agnello, altro animale protagonista della passione, che viene offerto perché gli altri abbiano la vita. Ed infine la figura di Nicodemo, la figura di Giuseppe di Arimatea, che con Nicodemo vanno da Pilato a chiedere il corpo di Gesù. Di essi parlano tutti e quattro i Vangeli, ma solo Marco aggiunge un aggettivo, che questo andare da Pilato fu un andare coraggioso. Nicodemo e Giuseppe di Arimatea si manifestarono come discepoli di Gesù e lo fecero con coraggio in un momento estremamente difficile, in un momento in cui, come Gesù anche loro, potevano essere presi ed uccisi. Per noi questo insegnamento, se vogliamo essere davvero discepoli, se vogliamo essere davvero seguaci e testimoni di Cristo, dobbiamo esserlo sempre, ovunque, con tutti. Quando è facile, come quando ci troviamo in mezzo a persone che la pensano come noi e che acclamano Gesù come le folle all'ingresso di Gerusalemme, ma anche quando è difficile, quando Gesù viene lasciato solo, quando Gesù sperimenta silenzio, angoscia e paura, quando Gesù muore in croce. Questo è il portone che si apre davanti a noi, sorelle e fratelli carissimi, all'inizio di questa settimana santa. Viviamola bene per poter poi fare esperienza di una Pasqua di vera risurrezione.